Con la presentazione ufficiale del nuovo logo, frutto di un concorso di idee che ha coinvolto una decina di studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Macerata, si alza il sipario sull'edizione numero 31 della RACI, la rassegna agricola del Centro Italia, organizzata e realizzata dalla provincia di Macerata. Una provincia creativa, capace di dipingere tutto il territorio nel grande quadro della RACI, verde come l'agricoltura e l'ambiente, verde come l'età dei giovani e dei bambini, che con le loro famiglie e le scuole, nelle ultime edizioni hanno invaso i locali del Centro Fiere di Villa Potenza di Macerata, decretandone il successo. Il nuovo volto della RACI è frutto dell'intuizione di Francesca Iezzi, 23enne di Atri, provincia di Teramo, studentessa dell'Accademia di Macerata. Inizialmente da quello che è il paesaggio della Regione Marche, quindi le colline, la vista che sia da Macerata di questo paesaggio sottostante, il dialogo tra questo elemento e quello della foglia, che è l'elemento che più identifica la natura, che più la rappresenta. Può sembrare scontato, perché a primo impatto magari è scontato, solo che funziona, cioè è immediato e quindi ha un forte richiamo sulle persone. Offrire una nuova immagine alla RACI è stata un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione provinciale, sulla scia del processo di rinnovamento avviato negli ultimi anni, che ha trasformato questa storica manifestazione da mostra mercato, per addetti ai lavori, a vetrina di promozione del territorio aperta a tutti, a cominciare dalle famiglie e dai consumatori. Particolarmente soddisfatta la direttrice dell'Accademia delle Belle Arti Macerata, giustamente orgogliosa per il contributo offerto alla manifestazione. Abbiamo appunto lo scorso anno accettato di buon grado questa proposta del presidente Bettinari, di partecipare in qualche maniera anche noi a RACI, rivisitando tutta l'immagine coordinata. È stata una bella esperienza, soprattutto per gli studenti che sono stati selezionati e che sono stati messi in mostra per la valutazione dei visitatori giù a RACI dello scorso anno, in particolare chiaramente per Francesca Iezzi, che è risultata quella più desiderata dagli spettatori, più gettonata, più votata. Devo dire che sicuramente collaborare con la provincia, come del resto noi siamo abberti sul territorio a qualsiasi altra collaborazione con gli enti, per noi è stato un momento cruciale, importante, siamo pienamente soddisfatti. Alla presenza anche dell'assessore alle attività produttive Giovanni Torresi e di Paolo Pinciaroli, il presidente Antonio Bettinari ha svelato qualche altro particolare della RACI 2015, che si svolgerà nel weekend dell'8, 9 e 10 maggio, evidenziandone soprattutto la fatica e la determinazione nel voler comunque realizzare una manifestazione storica, che ha saputo rinnovarsi fino a diventare quest'anno l'iniziativa di lancio e di apertura verso l'Expo di Milano, scelta dalla Regione Marche. Abbiamo in questi mesi visto, approfondito, riflettuto molto sul fatto di rinnovare questa nostra manifestazione, di riproporla, ma come? Perché non abbiamo nemmeno un euro per affrontare questa importante manifestazione, ma al tempo stesso c'è tra l'altro una novità, e cioè la Regione Marche ha messo al centro di Expo proprio la rassegna agricola, definendola l'apertura di Expo nel territorio marchigiano. Quindi bisognava assolutamente garantire questa manifestazione, rinnovarla e lo faremo. Abbiamo iniziato con il logo, è stato un bel concorso e i visitatori sono stati gli protagonisti, quelli che hanno scelto il nuovo logo, proposto da una delle studentesse dell'Accademia delle Belle Arti di Macerata. Diversi studenti hanno fatto delle proposte grafiche e poi i visitatori hanno scelto questo logo. Quindi quest'anno la Regione Marche avrà questa nuova immagine, molto bella, con lo slogan Vivi la nostra terra. La soddisfazione c'è ed è condivisibile, visto che la rassegna agricola del centro Italia non è una competenza stretta della provincia di Macerata. Tuttavia la provincia di Macerata la realizzerà senza spendere un euro, risparmiando pure sui costi, grazie ad una politica attenta, ammirata e alla fine condivisa da chi si è visto ridurre qualcosa in termini di rimborsi e quant'altro. No scorso abbiamo speso circa 280 mila euro. Voglio sottolineare un aspetto che mi pare molto importante. In pareggio, nel senso che non è costata nulla all'amministrazione provinciale, grazie all'incasso della biglietteria, grazie agli sponsor, soprattutto alle istituzioni locali, a cominciare la Regione. Insomma, siamo riusciti in questo intento. Quest'anno non abbiamo risorse per garantire, come ho detto più volte, perfino le funzioni fondamentali, i servizi primari che riguardano le scuole, i nostri ragazzi, i nostri giovani, che riguarda tutti noi, e cioè il sistema della viabilità e la sua sicurezza. Bene, non sarebbe stato possibile. E lo voglio sottolineare, non ci sarà nemmeno un euro dell'amministrazione provinciale per questa manifestazione. La RACI è a costo zero e quindi i cittadini che vedono come, con difficoltà, stiamo cercando di garantire quei servizi a cui prima ho fatto cenno, devono anche conoscere, sapere, essere informati che la RACI, per le casse della provincia, non costerà un euro. Forti dei numeri, nel 2014 sono stati quasi 50.000 visitatori che in due giorni e mezzo hanno invaso la RACI, questa edizione vedrà 400 espositori su 15.000 metri quadrati. Confermate gli appuntamenti con Musicultura e Piero Cesanelli per le serate fino a mezzanotte, così come gli assaggi gratuiti di Polenta firmati dal Comitato Parrocchiale di Santa Maria in Selva, con Don Giuseppe Branchesi in prima fila. Gli obiettivi principali della rassegna restano e mirano alla tutela della qualità degli alimenti e dell'ambiente, alla promozione delle tipicità enogastronomiche, dell'agricoltura biologica, la valorizzazione turistica del paesaggio agrario e ovviamente a ribadire il ruolo della zootecnia con l'eccellenza dei bovini della razza marchigiana. La nostra tradizione, la nostra civiltà contadina, le nostre eccellenze, a cominciare da quelle agroalimentari, che sono notevoli, sono tante, noi non abbiamo nulla da invidiare rispetto alle altre regioni, l'Imitrofe, altre regioni magari più famose anche sotto l'aspetto agroalimentare, ci sono tante eccellenze e la nostra enogastronomia, a condizione che si ponga nel solco anche della tradizione, dei cibi, dei piatti, delle cucine, delle nostre nonne, dei nostri antenati, bene, dicevo, tutto ciò rappresenta un grande patrimonio che unito all'ambiente, al paesaggio, alla ricchezza, ai tesori della nostra terra, possono insieme rappresentare un motivo di interesse, di curiosità e quindi per coloro che vorranno passare una vacanza, trascorrere una vacanza nel nostro territorio, sanno, dovranno sapere e noi anche con questa manifestazione cercheremo di rappresentare loro le eccellenze, come ho detto prima, del nostro territorio. Noi pensiamo che quest'anno sarà ancora più bella, sarà ancora più interessante e naturalmente grazie alla Regione Marche che ha voluto puntare ancora una volta sulla nostra manifestazione e grazie alla Camera di Commercio, grazie agli sponsor, grazie ai comuni, in particolare al Comune di Macerata e al Comune di Recanati, ma di questo ne parleremo in altre occasioni. Tanto è la prima tappa di avvicinamento, poi ne faremo altre, ma mi piaceva sottolineare soprattutto questo aspetto, cioè che insieme si possono affrontare le difficoltà. Tra gli sforzi che l'amministrazione provinciale ha messo in campo anche quello di tenere fermo il prezzo del biglietto, 5 euro, con i bambini sotto i 12 anni e le persone sopra i 65 che entreranno gratis.